Maig Notizia vi saluta, tutta la redazione di Telemaig di questa testata giornalistica vi dà un benvenuti, sintonizzati con il 97 del Digitale Terrestre per chi ci seguisse dalla Puglia e 884 riservato alla Basilicata. Ben ritrovati quindi con questo nuovo editoriale. Diversi gli argomenti, saremo breve come nelle altre occasioni o quantomeno mi sforzerò di esserlo. L'importante è aver la voglia di essere brevi. Se poi non si riesce, ce l'abbiamo messa tutta e spesso lo sentiamo nei confronti, non di tutti, ma di quella parte politica che dopo cinque anni di amministrazione dice non è colpa mia, non è colpa nostra, ma ce l'abbiamo messa tutta. Sì, perché la colpa è sempre degli altri. Quindi se io dovessi sbagliare qualcosa adesso, non è colpa mia, è colpa di chi mi ha messo qui il microfono, chi ha mixer audio, chi fa il montaggio. Eh sì, la colpa è sua, quindi se io ho pochi capelli, la colpa non è mia, la colpa è di chi mi inquadra. Mi raccomando, inquadrate solo dove ci sono i capelli. Insomma è tutto relativo, tutto relativo e non oggettivo in questi casi. Noi dobbiamo fare in modo invece di, sì, in quanto sono appuntamenti con l'editoriale, essere obiettivi il più possibile, ma sempre nella libertà di esprimere la mia opinione, altrimenti non sarebbe un editoriale, sarebbe il megafono dei pensieri di altri. Per poter dar spazio alle altre idee, alle altre posizioni, ci sono le interviste, ci sono i talk show, c'è anche quel contenitore, tra gli altri, del Liberamente Parliamone, che riprenderà dopo l'estate, dove tanti sono invitati a partecipare e ognuno ha la possibilità di esprimere le sue considerazioni, esporre le sue idee, come è giusto che sia. Nessuno escluso, tutti possono inviare una mail a telemaichechiocciolalibero.it o un messaggio whatsapp all'attenzione alla nostra relazione, per poter esprimere le proprie opinioni e dire, sono tal dei tali, vorrei parlare di questo argomento, vorrei esprimere le mie considerazioni su un fatto che mi è accaduto. Questo è il bello della nostra programmazione, che nel territorio ci mancherebbe. Ha piacere nel vedere queste segnalazioni portate alla nostra attenzione e poi diventare bagaglio di tutti. Le mettiamo a disposizione di tutti coloro i quali ci seguono. Le vaccinazioni, e dai, non vi spaventate, sì lo so, ve ne parla dappertutto, ve ne parlano tanti, ma il Green Pass, ne abbiamo già parlato, prima ancora che ne parlassero gli altri, ci piace arrivare in anticipo, questo dimostra che nel Sud ci può essere qualche piccola televisione, qualche piccolo artigiano, qualche piccolo professionista, qualche piccolo essere umano, che abbia delle idee, che hanno la necessità di camminare dove? Sulle gambe di una struttura che lo Stato deve mettere a disposizione, altrimenti questi piccoli uomini farebbero la rivoluzione, e non si può fare la rivoluzione. E qual è la differenza tra i rivoluzionari? E' uno Stato democratico, rispetto a questo mio dire, che le idee ci possono essere, ma ci deve essere poi un apparato, una struttura, uno Stato, un'organizzazione pubblica che ti mette a disposizione quello che è necessario per concretizzare queste idee, senza porre dei limiti. Naturalmente le idee devono essere rispettose della nostra Costituzione, ma non dell'ideale politico di quella singola amministrazione o di quel singolo politico a cui ci si rivolge. E spesso, dobbiamo dire, nel nostro Sud purtroppo avviene questo. Quando invece ci si trova di fronte un politico che ti dà lo spazio per realizzare queste tue idee, ecco, cresce il territorio, cresce il nostro Sud, crescono le persone e in più si sentono realizzati e non rispondono e nemmeno hanno questa spinta di dover andare via. Può succedere al giovane, vado via da questa mia Puglia, vado via da questa mia Acquavia delle Fonti, vado via da questa mia Italia, proprio perché si sente questa spinta nel momento in cui tutte le porte ti sono state chiuse, non perché la tua idea fosse anticostituzionale, non rispettosa delle regole e delle norme italiane, ma perché non era di quel colore che piacesse in quel momento a quel colore politico a cui ci si stava rivolgendo, ci si rivolgeva. Ma perché uno si riferisce a quel riferimento politico? Perché è quello magari il sindaco, è quello magari il presidente della regione, magari è quello il presidente della città metropolitana, e lui l'istituzione, non si può scegliere, è stato già scelto elettoralmente e a lui mi rivolgo. Fatta questa premessa, l'informazione è essenziale, conta moltissimo, come quindi diventano importanti coloro i quali vivono e sono i professionisti dell'informazione e quindi i giornalisti, che attraverso la loro professionalità devono fare in modo che si possa fare un'informazione il più possibile coinvolgente, corretta, trasparente, senza lasciare indietro nessuna idea, nessuna voce. Perché altrimenti, come è successo per AstraZeneca, la fiducia nei confronti del vaccino, di quella determinata vaccinazione, viene meno. Più si è informati, più gli utenti sono a conoscenza degli argomenti, e quindi in questo caso dei vaccini, delle somministrazioni, delle regole, dei paletti, di come prenotarsi, del perché vaccinarsi, è sicuramente più probabile che ci sia questo coinvolgimento, questa voglia di andarsi a vaccinare. E questo lo deve fare lo Stato. E' lo Stato che ci deve dare la possibilità di camminare. Ci deve dare le basi su cui noi poi dobbiamo poter proseguire la nostra vita senza tracciare un'unica strada. Siamo noi che dobbiamo scegliere la strada migliore. e quindi cosa? Io devo andare alle 13 e 12 di oggi, giovedì 15 luglio, sulla piattaforma, che non me ne vorranno le istituzioni, io l'ho chiamato Pippa, ma è una battuta, non è per sminuire l'importanza della piattaforma, ci mancherebbe, ma perché, anziché ripetere il nome che è un po' più lungo, a me piace definire la Pippa, e più semplice, mi piace così, l'avrei potuta chiamare Nicoletta, Rosetta, non lo so, Rosina, Beautiful, non lo so, mi è venuta Pippa e l'ho chiamata Pippa. Quindi, andando sulla piattaforma, per la prenotazione della mia vaccinazione, della mia somministrazione, alle 13 e 12 io sono di Acquaviva delle Fonti, risiedo ad Acquaviva delle Fonti, sono cittadino nato ad Acquaviva delle Fonti, penso di avere il diritto e allo stesso tempo il dovere di richiedere che mi venga somministrato il vaccino nella città di Acquaviva delle Fonti, perché c'è un hub vaccinale, il dovere è perché non vado a dar fastidio a San Michele, per esempio, non voglio dar fastidio al sindaco Lorenzo di San Michele, perché devo andare da fastidio all'hub di San Michele o a qualche altro hub, se ce l'ho nella mia città, sono bravi, magari li conosco pure e nella mia città, mi piace la mia città, e ho il dovere di non andare da fastidio a San Michele, per esempio, e quindi mi accingo a prenotare alle 13 e 12 codice fiscale, ti fanno mettere codice fiscale, la mail, tutte le indicazioni necessarie, comincia a girare, alla fine compare la scritta appuntamento non disponibile, mi volete dire quando sarà disponibile l'appuntamento, o io devo stare ogni 5 minuti, ogni mezz'ora, ogni ora a provare di prenotare, voi direte immagino queste cose le hai già dette, certo, ma se io le ho già dette 10, 15, 20 giorni fa, si presume che in 10, 15, 20 giorni si trovi una soluzione, ma quindi io le ripeto per ricordare a tutti noi che alle ore 13 e 12 di stamattina io non ho potuto esercitare il mio diritto di prenotare la somministrazione vaccinale che secondo molti e quindi anche secondo me è un dovere nei confronti di chi potrebbe avere dei danni dal mio non essere vaccinato. In questo caso però deve essere chiaro che la politica e quindi gli esperti che compaiono nei talk show non prendono in esame una considerazione molto rilevante ossia che io faccio il mio caso personale ma parlo a livello generale sono il soggetto leso sono il soggetto che sebbene ho nel mio comune lab vaccinale non posso prenotare sono il soggetto che viene privato del diritto quindi di potermi vaccinare come è stato fatto per gli altri e quindi quando penseranno di far di rendere diciamo esecutiva l'idea del Green Pass io sarei privato di un diritto di poter accedere a dei servizi perché lo Stato non ha fatto il suo dovere di vaccinarmi nel momento in cui io da settimana se non da mesi non riesco a trovare nella diciamo piattaforma del lab di Acquiglia delle Fonti quella della della Regione Puglia per la prenotazione la disponibilità perché il messaggio è appuntamento non disponibile quindi l'informazione è importante e rilevante per la fiducia degli utenti e quindi riscontriamo che invece questo non funziona non è efficace bisogna quindi invito le istituzioni a fare di più maggiori sforzi per fare in modo che tutto questo venga finalmente risolto leggo dal Corriere della Sera e quindi chi seguirà la rassegna stampa potrà ascoltare quanto scritto dai colleghi sia sul giornale che sull'Avvenire che sul Corriere del Mezzogiorno la notizia che riguarda di Cronaca che riguarda Sara il titolo è in questo caso pubblicato dal Corriere della Sera Sara e le vessazioni in ospedale il primario non si fa da parte Trento dopo il trasferimento è andato in ferie pronte altre sei cause per mobbing dopo la scomparsa di Sara Pedri si scrive nella scheda una indagine interna all'azienda sanitaria ha portato al trasferimento del primario di ostetricia e ginecologia Saverio Tateo che risulta essere in ferie c'è una commissione che se ne è occupata dell'ASV eccetera eccetera ecco è bello sì che ci siano queste commissioni è bello sì che le forze sindacali abbiano con le loro sigle all'interno delle strutture anche quindi sanitarie i loro rappresentanti ma io ritengo che sia indispensabile necessario quindi ancora un invito che propongo alla politica che vi siano invece più soggetti esterni tra questi soggetti esterni non devono mancare i rappresentanti delle associazioni a tutela degli utenti perché se è vero che il servizio sanitario è un servizio rilevante pubblico come lo si sta spesso e quotidianamente affermando proprio a causa del covid della pandemia è necessario che non si debba trattare qualsiasi caso che riguardi la sanità in un cerchio in una commissione in una organizzazione che sia composta esclusivamente dagli addetti ai lavori ma ci devono essere anche coloro i quali rappresentano tutti quegli utenti quelle persone che soffruiscono di quel servizio perché se la dottoressa di cui si parla Sara Pedri ha avuto difficoltà e ha subito il mobbing o vedremo quale sarà la motivazione poi definitivamente accertata resta il fatto che gli utenti che si sono rivolti a quel reparto a quell'ospedale hanno avuto evidentemente un servizio non di ottima qualità o inferiore a quello che avrebbe potuto avere se invece la dottoressa Sara Pedri fosse integrata all'interno di quel reparto di quella struttura e non avesse subito così come si dice delle pressioni psicologiche e delle offese non si deve per forza essere presi a schiaffi o chissà quale altra cosa brutta subire ma si possono anche subire le pressioni psicologiche essere messi da parte non essere valorizzati contar meno di chi arriva magari all'ultimo momento e magari rispettare più qualcuno mi dispiace doverlo dire chi ha la coscia più lunga anziché quella che ha la coscia più corta o chi porta la gonna rispetto a chi porta il pantalone non so se è chiaro e allora evidentemente le commissioni devono essere esterne perché spesso si sa più dall'esterno che dall'interno perché dall'interno si ha tanta voglia di mettere a tacere tutte quelle voci che possono danneggiare l'amico della porta accanto o meglio del reparto alla mia destra alla mia sinistra detto questo vi voglio salutare lasciandovi a quanto abbiamo seguito stamattina alle ore 10 e 15 circa a proposito del recovery sud al Parlamento europeo infatti alle 10 e 15 di stamattina il sindaco di Acquaviva delle Fonti Davide Carlucci coordinatore della rete di comuni meridionali recovery sud ha presentato il testo della petizione lanciata per chiedere di modificare il piano nazionale per la ripresa e resilienza favorendo una più equa distribuzione delle risorse al sud la petizione è proposta a nome dell'osservatorio sul piano di rilancio e mezzogiorno della rete recovery sud e dal movimento 24 agosto per l'equità territoriale i sottoscrittori contestano l'assegnazione teorica del 40% del PNRR al sud e chiedono che si intervenga con maggiore decisione per evitare che il recovery plan concepito per favorire la crescita superando il divario nord sud finisca in realtà per accentuare questa divaricazione seguiamo insieme in conclusione di questo mio editoriale l'intervento del sindaco Davide Carlucci in sede europea un saluto a voi tutti passerei al punto successivo all'ordine del giorno il punto numero 15 che è la petizione 515 2021 petizione presentata dal signor Davide Carlucci cittadino italiano a nome della rete dei sindaci del recovery sud è correlata da 39 firme sull'equa ripartizione dei fondi next generation EU nell'ambito del piano nazionale per la ripresa e la resilienza per l'Italia il signor Carlucci è qui presente gli diamo il benvenuto e ha due minuti per spiegare la sua petizione prego grazie egregi parlamentari egregia presidente della commissione e petizioni del parlamento europeo Dolors Montserrat grazie per aver consentito di far sentire qui la voce dei sindaci del sud Italia che per la prima volta nella storia della nostra nazione si sono uniti in modo trasversale per ribellarsi a quel divario che ci condanna da 150 anni con questa petizione proposta a nome dell'osservatorio sul piano di rilancio e mezzogiorno della rete dei sindaci del recovery sud da me coordinata e dal movimento 24 agosto per l'equità territoriale chiediamo alle istituzioni europee di modificare il piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dal governo italiano favorendo una equa distribuzione territoriale di fondi le priorità dell'allocazione delle risorse per le riforme per i progetti di investimento pubblico del piano dovrebbe essere accordata ai territori più svantaggiati per garantire una ripresa economica che riduca le disparità la scelta del governo italiano di destinare al sud solo il 40% teorico delle risorse del PNR rischia invece di creare i presupposti per una ulteriore gravissima divaricazione attuendo le disparità territoriali a pregiudizio delle aree depresse dal punto di vista socio-economico come quelle meridionali le cui condizioni si sono vie più deteriorate con la pandemia 80 miliardi di euro di cui solo 22 certi ricordiamolo come ha dimostrato l'economista Gianfranco Viesti sembrano una cifra enorme non lo sono però se si considera quanto sia cronico e difficile da sradicare il dislivello il nostro deficit di sviluppo che come dicono da anni economisti centri studi e lo stesso presidente del consiglio Mario Draghi anziché diminuire si aggrava sempre di più per raggiungere Milano da Roma si impiegano due ore e cinquantacinque minuti per spostarsi tra Napoli e Palermo invece ce ne vogliono nove e cinquantotto quasi dieci ore l'aspettativa di vita delle fasce povere delle popolazioni del sud è di dieci anni più bassa di quella delle popolazioni più ricche del nord un bambino residente nel mezzogiorno ha un rischio del cinquanta per cento in più di morire nel primo anno di vita rispetto ad uno che nasce nelle regioni del nord questo non avviene per caso succede perché la spesa per interventi nazionali finalizzati allo sviluppo del mezzogiorno è scesa dallo 0,47% del PIL italiano degli anni 90 allo 0,15% del 2015 ben cinque volte meno rispetto al periodo dell'intervento straordinario i fondi europei hanno sostituito solo in minima parte e in aperto contrasto con il principio europeo di addizionalità il mancato impegno delle politiche nazionali di diequilibrio ecco perché è importante che al sud sia dato ciò di cui ha realmente bisogno serve una cura da cavallo non una spirina ed è altrettanto importante blindare la locazione delle risorse attraverso graduatorie per macro aree per evitare che una volta messi a bando i finanziamenti stanziati dall'Europa per il sud finiscano in realtà all'ord dove i comuni sono più astrezzati meno distratti da emergenze sociali e più ricchi e quindi più in grado di cofinanziare in questo modo quel 40% che pure insufficiente rischierebbe di volatilizzarsi grazie al federalismo fiscale infatti i comuni del sud si sono impoveriti svuotati di personale hanno tante idee ma pochi progetti nel cassetto come può un comune come Acquaviva delle Fonti il mio comune con 54 dipendenti competere con Peltre che a parità di abitanti ne ha 125 come può Andria con 290 dipendenti competere con Piacenza che ne ha 630 ecco il circolo vezzioso in cui siamo intrappolati qui al sud più siamo poveri meno abbiamo possibilità di uscire dalla nostra condizione e nessuno può accusarci di indolenza o incapacità nell'utilizzo delle risorse recovery sud ha realizzato un libro bianco con tutte le proposte progettuali dei comuni meridionali lo hanno scritto a amministratori che si dannano perché non hanno ingegneri sindaci o assessori che non potrebbero permettersi il lusso di fare pianificazione perché in questo momento stanno negli avvacinali a dare una mano concretamente oppure devono dare risposte agli agricoltori in ginocchio per la siccità avevamo chiesto 5.000 giovani progettisti per i nostri comuni li hanno messi a bando 2.800 e si sta coprendo solo la metà dei posti così partiamo male cari amici dell'Unione Europea e noi non vogliamo che il recovery in Italia sia un flop chiediamo quindi che la commissione Peti mandi una lettera al governo italiano chiedendo chiarimenti su questi punti chiediamo inoltre che la petizione rimanga aperta chiediamo di monitorare con la massima attenzione l'attuazione del PNRR da parte dello Stato italiano noi non vogliamo perdere anche questo treno non vogliamo continuare a vedere i nostri giovani andare via non vogliamo sentire più parlare di una nazione divisa in due grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti